La corsa del marsupiale più famoso dei videogiochi non accenna a fermarsi. Dopo l'uscita di It's About Time su console della passata e della presente generazione, Crash approda anche sui sistemi mobile. Forte della popolarità del personaggio, Crash Bandicoot on the Run è già stato scaricato gratuitamente più di 11 milioni di volte. Si tratta di un'esperienza sulla scia di Subway Surfers che propone un modello freemium tipico del genere, un livello di sfida volutamente tarato verso il basso e una cornice grafica deliziosa. Ma raccogliere i frutti Wumpa sugli schermi del nostro smartphone è davvero così appetitoso? Prima di proseguire con la nostra recensione, vi invitiamo come sempre a iscrivervi al canale per non perdere nessun video di Evriai.it. Quel cattivone di Cortex non vuole proprio arrendersi. Seguendo uno dei suoi soliti piani malvagi, ha rubato le gemme del potere per aprire i portali multidimensionali e tramite i suoi fedeli scagnozzi governare il multiverso. Ovviamente la previdente Coco ha già scoperto le intenzioni del malefico dottore e sta subito preparando la controffensiva. E il problema è che occorrono numerose risorse per preparare le armi necessarie a rispedire i galoppini di Cortex nel loro universo. Spetta dunque ai fratelli Bandicoot partire all'avventura per raccogliere i materiali con cui sconfiggere i nemici. Come sempre i due peramele saranno accompagnati dal fedele Aku Aku e dovranno fronteggiare un manipolo ben nutrito di avversari, alcuni appartenenti alla trilogia classica mentre altri estrapolati dagli spin-off che si sono susseguiti nel corso degli anni. Il canovaccio narrativo, è bene chiarirlo, si esaurisce in una manciata di secondi. Crash Bandicoot on the Run è una festa di fanservice dotata di una leggerissima verve che dimentica presto la sua storia e si limita a mettere in scena una serie di personaggi ben noti agli appassionati. Prima di sconfiggere ciascun boss dovremmo eliminare i suoi quattro sgherri, piuttosto generici nell'aspetto che tendono anche a ripetersi di volta in volta con timide variazioni in termini di design. E così il gioco finisce per sfociare ben presto nella ridondanza, esattamente al pari del gameplay. Come in ogni altro esponente del genere, la formula di Crash Bandicoot on the Run prevede che Crash o Coco si muovano in automatico lungo un percorso. L'obiettivo dell'utente consiste nell'evitare gli ostacoli, spostandosi a destra o a sinistra con il touch, effettuare salti e giravolte per togliere i nemici di mezzo e rompere le casse di frutti Wumpa. Al termine degli stage ci attende il confronto con i boss, durante il quale dovremmo agire col giusto tempismo su una barra posta ai margini inferiori dello schermo. Prima di poter affrontare un avversario di fine livello, tuttavia, bisognerà fermarsi ai laboratori presenti sulla mappa di gioco, così da fabbricare le armi necessarie ad abbattere i bersagli. Ed è proprio qui che la formula di on the run inizia ad accusare qualche contraccolpo. Per produrre gli strumenti, infatti, dovremmo far scorta di differenti materie prime, che vanno al di là dei classici Wumpa. Più avanzeremo, maggiori saranno le quantità di risorse obbligatorie per proseguire. A questo punto dovremmo attendere un tempo variabile per la produzione degli oggetti, da velocizzare tramite il consumo di cristalli, il cui numero, a patto di non pagare di tasca propria i pacchetti premium, è abbastanza ridotto. Se sceglieremo di non cedere alla tentazione di usare denaro reale, ci toccherà dunque armarci di pazienza e aspettare anche una decina di minuti prima che un singolo oggetto sia pronto all'uso. Il recupero di materiale avviene attraverso specifiche sfide poste all'interno di alcune isole, che contengono le casse con le risorse per il crafting. Queste prove di raccolta divengono presto molto ripetitive, eppure si dimostrano indispensabili per proseguire senza mettere mano al portafoglio. Avanzare lungo l'avventura comporta anche lo sblocco di ulteriori strutture sull'isola principale, sia utili a ottenere nuovi oggetti, sia a guadagnare sempre più trofei. Inoltre le meccaniche ludiche, quantomeno nelle missioni principali, non propongono un grado di sfida molto stimolante. I livelli di Crash Bandicoot on the Run si dimostrano infatti sempre piuttosto facili da completare. È una scelta volta ad avvicinare il prodotto a un pubblico di giovanissimi, ma è inevitabile che presto la monotonia cominci a essere predominante. Alquanto interessanti sono invece alcune missioni che si sbloccano avanzando nella campagna, tra corsa sfida e prove a tempo, in cui la difficoltà si fa sensibilmente più alta, anche se non certo proibitiva. Ad arricchire il pacchetto dell'offerta, oltre alla promessa di altre isole che verranno aggiunte in futuro, c'è anche una componente multiplayer. Potremo prendere parte a una squadra con altri utenti e contribuire a farla salire di livello con l'ottenimento dei trofei, oppure avremo la possibilità di sfidare i giocatori in corse di sopravvivenza, nelle quali vince chi resiste più a lungo all'interno di un percorso. L'idea non è affatto male, ma alle volte la sovrapposizione dei modelli poligonali finisce per rendere un po' difficoltosa la leggibilità del tracciato. Nell'insieme il gameplay di Crash Bandicoot On The Run, al netto della sua ridondanza e di qualche limite di troppo alla formula freemium, sa essere abbastanza piacevole. Molto semplice da approcciare, il gioco è utile come passatempo mordi e fuggi, che non causa grossa assuefazione, ma sa intrattenere a sufficienza. Merito sia di meccaniche ludiche ben rodate, sia di un comparto grafico e sonoro indubbiamente riuscito. La resa visiva di On The Run è a nostro avviso l'aspetto migliore della produzione. Coloratissimo e molto dettagliato, il mondo di gioco è avvolto dalla stessa atmosfera che caratterizzava la trilogia originale. I modelli poligonali dei nemici e dei marsupiali si pongono su livelli molto elevati, così come le animazioni di Crash e Coco durante la corsa e le immancabili esultanze, senza contare la presenza di skin alternative per modificare in maniera alquanto buffa l'aspetto dei protagonisti. Nell'insieme anche il sonoro si mantiene su standard decisamente alti. dal momento che eredita le musiche e gli effetti delle opere appartenenti al filone principale della saga. Discreta si è rivelata anche la composizione degli stage, alcuni dei quali presentano interruttori che attivano passaggi, vie alternative e sbocchi sotterranei con l'obiettivo di incentivare almeno in parte la rigiocabilità. In definitiva, Crash Bandicoot On The Run è una trasposizione mobile del celebre marsupiale che non brilla certo per struttura, né per guizzi ludici. Funziona entro i confini delle sue modeste ambizioni. Proporre un'esperienza a mordi e fuggi, giocabile sì gratuitamente, ma con lo spettro della monotonia e della ripetitività che alleggia minaccioso già dopo qualche livello. On The Run è insomma un prodotto dignitoso, conscio dei suoi limiti e indirizzato prevalentemente a un pubblico molto giovane. Per questa trasferta mobile di Crash Bandicoot in ogni caso avremmo gradito comunque un po' di equilibrio e di brio in più.